Quest'oggi ragazzi, ho rapito bella faccia Bella faccia, puoi aprire gli occhi Aspettati, devo strappare, alza la testa Benvenuto nel parkour No, 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 non puoi, non puoi avere questa reazione ogni volta Bella faccia, ormai hanno lasciato più di 15.000 mi piace nell'ultimo episodio, lo sai No, sai qual è, sai qual è la prassi A loro piacciono questi video e noi li continuiamo a portare Lo faccio solo per voi Che poi nello scorso episodio ti facevi tutto sbruffone, dicevi sono più bravo di te, sono migliorato Ma chi, non era io Non era io Era faccia bella No, 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 eri proprio tu, me lo ricordo Hai anche usato dire che io faccio schifo come maestro di parkour È vero, quello sì, lo dico con tutti Allora aspetta Pensavi solo per te Devo andare di qua Bam Guarda già, che ci vuole Ti serve una mano? Oggi ragazzi Ti faccio un corso Vuoi un corso? Oh, tiratela meno Corso accelerato di parkour per Bella Faccia in arrivo Beh, se non ti dispiace io vado avanti Guarda, girati Come hai fatto? Non ti dispiace Oh, se citti Bella Faccia te lo giuro, è la volta buona che non siamo più amici Oggi non puoi più citare, chiaro? No, oggi volevo dire una cosa ma non lo dico No, dillo, dillo Dillo Volevo trovare un termine di cibo simile a citare ma non lo trovo Banana cicchita Banana cicchita Boom! Terzo livello, andiamo Ormai siamo quasi alla fine ragazzi di questo mitico parkour E avevamo promesso che se lo finivamo Che cosa? Cosa cavolo ridi? Ok, citto Non puoi Non è così che funziona, eh? Avevamo promesso Avevamo promesso Che se lo finivamo Sentiamo Sentiamo la cretinata che sta per dire Finalmente dopo due anni che lo fissiamo Si taglia i capelli a zero Si doveva mettere la skin del nabbo nel prossimo video Non se la mette mai Da quant'è che gliela chiediamo? Facciamo così? Vuoi fare una cosa divertente? Sì, però io non sento No, no, no Facciamo così Eh Chi perde, quindi chi arriva per ultimo Dovrà mettersi la skin del nabbo per una settimana Ma cosa? Ma come dire Oh, facciamo una sfida a chi corre più veloce, dai È logico che sei meglio nel parkour No, no Beh, io potrei anche sbagliare L'altra volta mi hai dimostrato il contrario Dai, cos'è? Sei un pollo? Non accetti la sfida Una settimana Però la devi tenere veramente No, no, no Io ti giuro che io lo faccio No, no Io lo faccio Dai No, no Fifone No, no Che fifone Ragazzi, d'ora in poi commentatevi tutti i video quando sei un fifone Dai, va bene, va bene Lo fai? Va bene Veramente Ok, va bene Una settimana Ok, il parkour Chi arriva secondo in questo parkour Quindi chi non lo finisce per primo Dovrà mettersi la skin del nabbo per una settimana Ok, va bene Giusto che fai sempre così lo sbruffone Ma chi fa lo sbruffone? Ma lo fai te lo sbruffone Ok, ora mi impegno, t'avviso Ecco C'è una sfida, eh Ora io mi impegno Guarda te sto nabbo Però ovviamente non si può citare No, no, allora no No, non gioco più No, eccola Ma cosa sei, scemo? È ovvio che se citi non va la sfida Eh, non l'avevi detto però No, non si può Non si può citare Che tipo di cit? La creativa Ok, la creativa E lo spectator No, no, no È ovvio Guarda subito come vuole barare Pur di non essere chiamato nabbo Va bene queste due cose hai detto Perché cos'altro c'è? Non puoi mai metterti in creativa Cioè quindi non puoi usare le ender Va bene Ok, va bene, va bene Va bene Non c'è nient'altro No, no, abbiamo detto Punto e basta Se intendi dire Se mi puoi tipo spingere puoi No, abbiamo detto punto e basta Niente creativa e niente spectator Ok, basta Ok Basta Patto? Patto Ok, cos'altro ci sarebbe? Cosa c'è sentiamo? Dai Cosa ho dimenticato? Non c'è niente Sta bleffando ragazzi Non esiste nient'altro No Lo scopriremo in un prossimo momento Porca miseria Ovviamente ci possiamo uccidere No La vicenda Va bene Ormai hai fatto il patto Ti ricordo Il patto col diavolo Dai sentiamo Racconta Qual è? Il tipi Ormai non puoi più Tanto sarò sempre avanti a te Anche se usi il tipi E io ti tipizzo da me No, no, dai Bella faccia, dai Smettila Dai Accetta la sconfitta Potresti annullare il patto No, col cavolo Io non annullo un bel nulla Annulla il patto Ma perché hai paura? Dove cavolo bisogna andare qua? Hai paura di perdere Ecco perché Annulla il patto Annullalo Non farlo più, eh Stop Ma cosa? Ormai le regole le avevi dette Mi sembra Ok, ma stop ora Tanto questo salto Non lo sai fare Lo sapevo Non puoi Basta Basta Teletrasportarsi Ma hai detto che si poteva No, io non lo sapevo Che tu intendessi quello Oh, ma perché devo ricominciare da qua? Scusa Ma che cavolo bisogna andare? Non è mica giusto Ah, di qua Di qua? Ragazzi lo sto ignorando Tanto So già che Ah, le regole Non è Lui non è un uomo di parola Non mantiene la sua parola Ma dove cavolo bisogna andare qua? Guarda che non sai neanche dove andare Incredibile Ma dai, ma perché ho accettato questa sfida? Io non la metterò mai Per me la perdi anche Teletrasportandoti Ah sì? Ah sì? Per me sì Perché tanto non trovi il punto in cui andare Quando mi senti Tornatene un pochettino qua Che cosa? Wow, è sbagliato pure il tp Adesso ti lascio vedere io Fermo Basta Bella faccia Adesso rimani sempre qua No Io ti banno da sempre Evidami Va bene, sfida annullata Se sei così fifone Ti devo dire Secondo me era bello Era interessante Troppo paura di perdere Sapevi già Ma sei te che ti lamenti Non usare il tp? Eh, non c'era delle regole Mi dispiace Ma io non mi ricordavo Che Beh, comunque il tp è come la creativa Ma che come No, non sono andato in creativa Quindi effettivamente Non ho barato Non ho imbrogliato Sei come gli avvocati Che cercano di trovare Quelle scorciatoie Ah, dovevo salire Io sono un pollo lirico Cosa c'entra con l'avvocato? Abbiamo quasi finito Hai ragione mamma Hai ragione Non sono tua mamma Hai ragione mamma Però un saluto alla mamma di Bella Faccia Che guarda i video Ciao mamma Bam Dove cavolo bisogna andare? No, sono tornato in dire Dai, allora È concesso far così Ok Ma che cosa dici? No No, non ho mai fatto un parkour con l'ametista È bellissimo Con la meringa? Con l'ametista Perché ti fa salire sopra, vedi? È tipo un mezzo blocco in più Dove siamo? Dove cavolo devo andare? Qua? Che arriva l'ultimo Si mette la skin da rabbo No Ormai hai annullato il patto quindi Io mi ritiro Ma che ti ritiri? Non puoi ritirarti È arrivata la pista Ma è questo lì Bella Faccia Sono le 10 del mattino Non credo tu Non è vero Sono le 10 di sera No ragazzi Credetevi Sono le 10 e 53 Ragazzi registriamo ogni volta le 10 di sera Registriamo di mattina Anche perché io ho dei vicini Non posso No, mannaggia Ciao vicini di Kendall Ciao vicini Allora Bella Faccia Basta Chiacchiere L'hai detto eh Non parlo più Ok Mamma mia oggi sei proprio fastidioso Hai detto che non parlo più? Oggi sei proprio fastidioso Non parlo più Va bene Comunque mi hai fatto venire voglia di pizza a pranzo Ah Perché è che mangia la pizza a pranzo? Allora facciamo venire fame a Kendall Visto che io ho fame Non posso andare a mangiare E allora facciamo venire fame anche a lui Ok Mannaggia No questo salto è troppo difficile Bombolone Non mi piacciono i dolci Arancino o arancina? Questo è il dilemma Non lo dire Allora Pissa margherita Che lei la guerra nei commenti Pissa margherita Salame piccante Mossarella fior di latte Bella calda Con un po' di salame piccante Dai smettila che mi viene fame veramente Oddio ce l'ho fatta Ma la domanda è Ho riuscito a fare il salto difficile Arancino o arancina? Smettila Eh? Boom Checkpoint Io vado avanti Fa troppo ridere Perché uno dice una cosa e uno un'altra Io vado avanti Arrivo Guarda che sono all'ametista legit Sì sì Certo E ora dove devo andare? Ma dove cavolo devo andare? Devo scendere Sì Devo scendere Oh mio Dio Questo quanto è difficile Poi passiamo alle torte salate Cheesecake La cheesecake non è una torta salata È una torta dolce Stupido Torta salata Torta salata Aiuto dalla regia Allora la torta salata buona buona Sai chi la fa? Carly Carly Tuo nonna Carly fa la torta salata più buona del mondo Con cipolle e salsiccia Ok allora L'ho detto Dove bisogna andare adesso? Fa tonne e salsiccia Cipolle e salsiccia Che schifo Tonne e salsiccia Allora Eh Che cosa? Cosa? Chi vince Questo parkour Eh Avrà la torta salata Della Carly Ma io tanto ce l'ho sempre Ogni volta che voglio Lo chiedo No E chi ce l'ha sempre Non ce l'avrà più per un mese No 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 Non esiste No no è andata Non esiste Oh allora Questo salto qua Basta parlare di cibo Questo salto è difficile Mannaggia Allora passiamo alle piadine Basta di cibo Me la faccia I ragazzi Devi sapere che guardano questo video Durante l'ora di pranzo Ma se io infatti Faccio venire fame Ma perché? Possono guardare questo video Mentre manzano Sai che a me mi piace Manzare mentre ascolto qualcuno Che parla di cibo Mentre guardo i video Anche a me Ma infatti sai che i video Che facciamo dove mangiamo noi Io e te Sono sempre piaciuti Perché loro si prendevano Da mangiare con noi Ok Ed è come se pranzavano con noi È andata Ne facciamo un altro Il primo video Mangiamo dieci chili Boom ce l'ho fatta Di torta salata Ma che dieci chili Ma se Guarda guarda Un campione C'è che era meglio Non parlare di cibo Io sono in spiaggia No a me non mi ha Sinceramente non mi ha cambiato niente Sto troppo male Sei male Ti manca Mi manca Ma dove cavolo devo andare qua? In che senso? Dove sei? Qua Guarda È facile Basta che vai dritto Vai sempre avanti E trovi la soluzione C'ho fatta Ce l'ho fatta Checkpoint Mamma mia Tu puoi restare anche là Guarda 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 Wow Ecco Te pareva No E non me ne ero accorto Ok Cosa ridi? Che tu sei riuscito a farlo solo perché mi stai sempre dietro Quindi mi stai ridendo Ma 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 chi lo dice? Guarda Guarda Ora fa lo sbrufone perché arriva prima Dopo essersi teletrasportato Ma cosa? Non sto facendo niente Ok va bene Tipi di pesce Ma cosa c'entra? Pesce sfada Dove stai andando bella faccia? Sono di qua Eh ma con la Vabbè Pesce spada Sushi 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 tanta roba Ti piace? Ah ok Allora parliamo No Mi hai fatto venire voglia di sushi Sushi e colazione? Oggi a pranzo ordino sushi Sushi e colazione? Ti dirò In Giappone lo fanno Sembra che faccio Loro diranno bella faccia ma basta E che lui Gli viene fame veramente Quindi io Lo stuzzico Ragazzi Io non sto scherzando Non abbiamo Io non ho fatto colazione Sono le 10 Io sto morendo di fame Per farti morire di fame a te Corro il rischio Basta Comunque basta veramente Perché secondo me Stiamo facendo Ok pasta al pomodoro Stiamo facendo venire La fame a tutti Ma sto video Loro lo poi Devono guardare Oh sono arrivato Sono arrivato all'ultima spirale Mi sa No No allora mi devi aspettare Manca poco Guarda che ci sono pure le frecce Che ti aiutano Puzza 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 Sai cosa puzza Che cosa Il gorgonzo Ah formaggi Io mi arrendo La nostra amicizia ormai è solo questo Parlare di cibo Dovresti vedere le nostre chat whatsapp ragazzi Aspetta Torta salata o Così credo Poi così 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 Checkpoint Checkpoint Tutto di fila Guarda non mi fermo Ma dove sei? Sono alle colonne Ah sei lì ti vedo Oh mannaggia No devo rifarlo Mannaggia 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 devo rifarlo Sono riuscito a fare il doppio salto Che dicevi Oh non ce l'ho fatto Bello feccio Hai imparato? Sì Non è vero Finalmente Parlare di cibo divento superman No Ma perché continuo a sbagliare? Aspetta Oh per me sono veramente alla fine Dai dai Quella faccia dai Puzza Puzza E ora? Dove cavolo devo andare? Aspetta 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 Che ti sto raggiungendo Mi devo buttare Non è vero Era mia la torta salata Ah c'è lo slime Non l'avevo visto Yamme Yamme E ora dove? Yamme Yamme Ora così Dai che mi danno il copyright Sei troppo bravo a cantare Ah non lo sai eh? Te lo dico io Faccio io da cavia Vai Penso io ok? Ok Guarda Aspetta Fammi vedere Andiamo all'aria Senti un attimo Ti do un'idea Appena corro spingimi Sei pronto? 3 2 1 Non serviva neanche Non sei buono neanche a spingermi Dai vieni Oh siamo arrivati alla fine Perché stai zitto? Perché siamo arrivati alla fine? Oh mamma Dove sei? No No scelta No scelta Oh cavolo Dove sei? No 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 Ho capito dove bisogna andare Che cavolo ridi Che cavolo ridi? Che cavolo ti ridi? Checkpoint? Checkpoint Non puoi Checkpoint Basta siamo alla fine Non puoi farlo Ma avevamo detto che Io sto sudando Sto sudando mille camice Perché sa che la torta salata Non se l'avrà più per un mese dopo Col cavolo E ora? Adesso ma perché sono tornato indietro? Vincitore No Guarda Vincitore No ormai l'ho fatto io Vincitore Sì Sì Non l'hai ancora fatto Non l'hai ancora fatto No Tu hai fatto fino ad ora Sono mascarzone Fermo che stiamo bugando la mappa Fermo Aspettiamo il timer 3 2 1 Ok ora hai vietato spingersi Via È vietato spingersi Oh però non vale Che cosa? Dai No Mi hai spinto Mi hai spinto con tutto il tuo peso Non ce la farai Non ce la puoi fare E come cavolo fai ad arrivare fino là? No È impossibile Ma è impossibile Oh però mi devo tipizzare Perché ero tornato qua Guarda che è impossibile Ma infatti non c'è abbastanza tempo 5 4 3 2 1 Non è vero Non è vero Sono il re Non è vero Sono il re Non è vero Ma dove cavolo stai andando? Eh sto fluttuando Per rivedere tutta la mappa Ragazzi Anzi il vincitore assoluto del parkour KENDALL KENDALL KENDALL